A Pescara in quasi tutti gli istituti di ogni ordine e grado con l'avvio del nuovo anno scolastico scatterà la settimana corta e quindi le elezioni si terranno da lunedì al venerdì. Il vice sindaco con delega alla pubblica istruzione Gianni Santilli conferma che il comune si è già confrontato con tutti i dirigenti scolastici e che è pronta alla delibera che prevede la chiusura il sabato di tutte le scuole dell'infanzia, delle primarie, medie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è quello di chiudere i 54 plessi dei 10 istituti comprensivi per ammortizzare i costi per l'energia. Il fatto che porteremo in giunta tra oggi e domani in modo da comunicare a tutte le scuole di nostra competenza che chiederemo di attuare la settimana corta. Per favorire risparmio energetico il comune ha deciso anche di tarare il riscaldamento di tutte le sedi su 19 gradi centigradi ma senza incidere sugli orari di accensione dei termosifoni. Abbiamo già tarato e tareremo anche per quest'anno scolastico a 19 gradi. Poi se dovessimo renderci conto come è successo già l'anno scorso, il mese di aprile che era arrivato il caldo, decidemmo già l'anno scorso di chiudere il riscaldamento. Ai dirigenti delle scuole secondarie superiori di competenza della provincia il presidente Ottavio De Martini si ha già inviato una lettera per proporre di strutturare l'orario su 5 giorni a settimana e l'adesione è stata quasi unanime. Manca l'appello soltanto all'istituto Tito Acerbo in cui le lezioni si terranno anche il sabato mattina ma solo per 4 ore, poiché il dirigente, i docenti e le famiglie avevano già confermato in sede di orientamento le lezioni su 6 giorni. Per quanto concerne le mense scolastiche il vice sindaco Santilli conferma che le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 30 settembre. Abbiamo avuto già una riunione con la Serenissima che è la società che gestirà ancora le mense fino al 31 di dicembre in quanto c'è in atto un appalto nuovo. I ragazzi cominceranno a mangiare dal 19 di settembre. Continueranno a mangiare nelle classi perché vogliamo che tutto sia ancora in sicurezza. Nel momento in cui ci dovessimo rendere conto che la situazione migliora allora torneremo con i ragazzi a mangiare nei refattori.